Ciao a tutti, sono Andrea Bandiera, chettolare della cremeria Scirocco. Oggi ci troviamo qua in Tico, in pari anni, per fare un po' di gelato. Utilizzeremo delle paste pistacchio, nocciola, di diverso tipo. Andremo ad utilizzare farine degrassate, che sono farine molto particolari. Faremo anche dei gusti assorbetto, quindi un pistacchio vegano e una nocciola vegana particolare, perché utilizziamo un olio di pistacchio, la pasta pistacchio e una farina degrassata. Due granite finali, per concludere la giornata, per pulire un po' il palato. Pariani innanzitutto è un amico, lo conosco da quasi dieci anni, è un innovatore, e sempre dietro a sperimentare, per cui come artigiano mi affido a lui alcuni prodotti di nicchia, perché sono prodotti molto particolari. Mi dà soddisfazione perché mi riesce anche a seguire quando ci sono delle esigenze particolari.